... ... ... Cosa stai facendo? Niente! Come niente? Niente! Sto facendo qualche lavoro di restauro e di ammodernamento. Ma tu hai murato nicchia! E che novità è questa? E perché forse le nicchie non si possono murare? Ma lo sa lei che io tutte le nicchie che incontro sul mio cammino... ...tippe, tippe, della muro? Questa la vedremo! Vi farò vedere chi sono io! Di che cosa essere capace! Lei non sa però... ...di che cosa sono capace io! Inge! Relga!